Perché hai smesso di amare la vita? Beh, non si ama la vita in se stessa, si amano i posti, gli animali, le persone, i bei ricordi, il cibo, la letteratura, la musica. E poi ti capita di incontrare una persona che richiede tutto l'amore che tu hai da dare. E se perdi questa persona, credi che tutto il resto si fermerà con lei. Ma tutto il resto invece va avanti lo stesso. Giraudot diceva, puoi sentire la mancanza di un'unica persona anche se ne hai intorno tante altre inutili. Queste persone sono una nuvola. Degli estranei che ti annebbiano la vista, sono una folla senza senso. Sono come un'inutile distrazione. Così tu cerchi l'obbio nella solitudine. Ma la solitudine ti fa solamente abbassire.